Creare un attimino una maggiore comunicazione non solo tra le varie industrie, ma anche tra gli operatori di mercato. Questo è sicuramente uno dei principali obiettivi che ci siamo posti, al fine di aiutare un attimino quello che è lo sviluppo della tecnologia, l'utilizzo della tecnologia da parte degli operatori e quindi con questo scopo associativo. Diciamo che poi da parte di SIE, ormai siamo arrivati a un attimo di 18 associati tra aziende primarie e aziende e associati secondari, ci presentiamo al mercato con questo primo evento importante da parte di SIE che si terrà a vostra continuazione il 16 ottobre, dove sicuramente è la prima tappa importante e fondamentale per l'associazione che si proporrà in modo più ufficiale al mercato italiano. Sono anche ben felice di confermare che non solo ci saranno tutti i vari appartenenti all'associazione, ma a questo primo evento avremo anche la partecipazione dell'associazione da parte di altri riferimenti che magari sono più importanti al momento di noi anche a livello internazionale, come l'associazione di categoria. Per quanto riguarda Mitsubishi Electric, la partecipazione all'evento SIE, che ci vedrà parlare in qualità anche di sponsor, dove esporremo il nostro punto di vista per quanto riguarda la parte video, soprattutto nel Digital Signals, che oggi se vogliamo vederlo, Mitsubishi Electric lo vive molto a 360 gradi perché alla fin fine partecipiamo a questo mercato del Digital Signals a forte incremento con diverse famiglie di prodotto, quindi per la videoponazione, il monitor, il QQ, quindi con vari sistemi di comunicazione, quindi diciamo che diremo, esporremo il nostro punto di vista su diversi fronti e su diverse tecnologie. Si sa che l'associazione audio e video poi nell'impresso rimane molto di più che solamente uno dei due canali, assolutamente, assolutamente. Direi che sempre di più oggi anche il semplice telefonino è uno strumento di comunicazione audio e video, banale ma è classico, l'esempio di tutti i giorni, che rappresenta il Digital Signals.